Se questi scienziati di livello così alto vengono a Teramo vuol dire che una certa credibilità anche a livello internazionale ce l'abbiamo. Hai detto che vuole fare di Teramo la capitale del One Health, è un po' il focus anche delle attività dell'istituto? Sì, è un obiettivo molto ambizioso, oltre all'ambizioso direi, ma questa è l'idea nostra. Visto che noi ci occupiamo di salute pubblica, lo facciamo con questo metodo, ormai da decenni ci sembra opportuno farlo conoscere e far diventare questa città la capitale del One Health. La Regione Abruzzo ha finanziato questo progetto e finalmente ha riconosciuto il valore dell'IZS nel campo del One Health, ma non solo. Ma direi che la Regione Abruzzo ci è sempre stata molto vicina. In questo caso ha creduto in questo progetto che abbiamo messo in campo, ha finanziato questo progetto con un finanziamento molto importante e lo ha fatto con una legge regionale rendendo praticamente stabile il finanziamento almeno per i prossimi tre anni. Spero che lo faccia anche in futuro. Questa è la partenza, partiamo col botto con dei nomi eccellenti a livello planetario direi. e speriamo di andare avanti così nelle prossime edizioni e addirittura di migliorarlo. Ci saranno scienziati ma anche divulgatori per sottolineare l'importanza di portare questo concetto alla portata di tutti. Sì, il fil rouge è utilizzare tutti quelli che credono in questo approccio. Per esempio, lo spettacolo di Paolini che ha nella scenografia un castello di carta proprio a sottolineare l'equilibrio precario in cui viviamo. Nico Romito che è tanto attento come chef, tanto attento alla sostenibilità e alla qualità e alla sicurezza del cibo. Insomma, il fil rouge è appunto questo approccio che contiene in esso la sostenibilità, la sicurezza alimentare, la salute degli animali e alla fine la salute dell'uomo. Chi andrete a premiare? Premieremo quattro categorie, uno scienziato internazionale, uno scienziato italiano, un divulgatore e una storia. Una storia di successo con un approccio che è quello che diciamo One Health.